Dov'è? Aspetta, lo so dove sta Raffaele ti puoi dire dov'è? Questo intendi Uno! Uno! L'ho visto Posso dire Ragazzi mi dite dove stanno gli altri Io sto muorendo Che ne sappiamo? Non c'è Solo che ha fissato sto Ma ma Adi credo che uno Secondo Ma dove? Dove stanno? Raffaele ci puoi spiegare dove stanno Uno! Uno! Ah! Uno sta da me! Uno sta Uno sta fuori a tutto lo yotto Dietro a tutto Dentro la capanna Eh sì da dove abbiamo trovato quello Poi? Poi un altro sta là Sotto Andate alla riva Alla riva sì Scendete Sì E sale coso Non si ha capito qui Perché uno sta là Perché non ho capito E' uno lo voglio capi down Da quest'ultimo Raga l'ultimo è impossibili a trovarlo Poi il pantalone stiamo occupando l'idea tutto dove raffaele no aiutano a finisce aiuto che sono male ho passato la trammissione dei pesci livello 48 quasi di livello ragazzi fa il gol pacifico allora ragazzi devo fare le missioni insieme non le devo fare da soli allora fingiamo mattia ho fatto la missione dei confiabili ora ve la dico dove sta però dovete abbandonare la partita martin ha messo il video raga troppo più bellezza buongiorno muoviti dove cazzo è martin vieni qua attimo da me vieni attimo da me vieni sali vieni attimo da me vieni ma dove cazzo ricordatevi questo piccolo stanzino terzo ed ultimo confiabile se questi non vi bastassero ragazzi devo stare tipo qua indietro ve ne mostro una ragazzi allora ragazzi se faccio il livello sono livello 29 se mi faccio il livello è la parte più alto dell'oyote ragazzo ragazzi io sono parte dove stanno no è di due livelli sul livello del 8 arrivo a dove stanno i container c'è ma è che il balli su il perio che fanno mannaggia non è di due livelli sul livello del 8 non è l'ombrello del 9 dove sta dove sta sta dentro un coltello adivini 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 ok vado a fare le visioni poi ora vado a seguita che fai io poi mi faccio quella della del 8 cerca le punizioni usa di vizio muoviti fai un gol a pacco pacifico l'imersione all'alto eccolo ecco si vai giù mi salto un gittimo guardate qua quando fai da vai 6.43 vai mattina potete stare gittimi salto un gittimo vai vai basta ah no 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 si muta tutte e due nooo a zio ammazza sei il mimmi a zio la ti ammazzata la ti ammazzata la mia dici che è un botto dici un botto ha detto ando per il telefono dici che è sua madre un botto qua no dici che è sua madre un botto hai detto che è sua madre un botto e dici anche la sua allora non l'hai mutato no l'ho sentito da l'ho sentito da una giocuffe si si a te credo io la pure la sento un po' aspetta mi abbandona un attimo faccio un attimo ma si innappa mi non abbandona aspetta ma c'è un attimo una missione dei punti deboli mancano altri 5 1 4 5 no si fatta sii raga livello 49 non ci posso credere mamma mia sto livello 49 scusatemi scusatemi invitiamo poi andiamo al lag facciamo una missione oh tutta la gente mi sta che non vado le case facciamo la sfida facciamo la sfida al frutteto io ce l'ho fatta vedete le missioni vabbè ma con me se l'hanno scritto e ma quella gente ti non metti pronto ti non metti pronto ti non metti pronto ti non metti pronto un detaplano leggendario devo sbloccare il gufo devo sbloccare oddio 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 adri ma si ma ehm io sto sbloccando quasi il gufo ho il gufo del torrano vabbè giù vabbè giù vabbè a che livello vado puoi? eh? il cazzo che livello vado? io sto a livello 48 vabbè vabbè io se sto a livello adri io vi ho youtube della psiccia vabbè vabbè se sto a livello 28 28 28 vabbè la vita è una menzogna non è mai stato 28 è sempre stato 28 io adri ho avviato youtube per vedere allora che dici io ce la faccio sbloccare il livello 40 che dici ce la faccio ma te ce la faccio sbloccare il livello 40 che cazzo non so ma siamo sul serio 17.20 ma ti dici dove sta l'unicorno unicorno c'è il mio gruppo che mi segua sanzo nessuno fai la missione di quello mattino che sto capendo niente fai la missione di chi fa la missione della squadra fai la missione della gruppa non c'è la faccia a riguardo il livello guarda il mio livello allora l'ho visto dopo faccio la tua missione di questo allora dopo faccio la missione di quello non ti capisco matti dove sta quello matti dove stanno la munizione matti dove stanno matti dove stanno dove sta il collo di collo cazzo mi sa ma me lo so perso raffaele ma non stiamo nella partita insieme e che cazzo ehi ma me lo dici dove sta che cazzo mi sa ma me lo so perso tu non puoi fare io ti chiederei ma raffaele vuoi fare l'esperienza ma tu che cazzo fai e dici di no e che cazzo che cazzo fai e si e poi possiamo che io pensavo che erano così difficili prima missione fatta dalla cazzo di munizione una su zero però uno su zero no uno su zero ma cazzo ha poco sull'attivo livello 50 mannaccio finalmente livello 44 adri adri mi dici dove stanno il tetto di collo allora allora mi vedi container si ehm ce ne deve essere uno in alto a tutto con dentro ma che sono i container i container sono quei cosi di metallo con mille di vita adri abbandonato raga io entro raga non so hai capito raffaele cosa sono i container un conten c'è un container rosso con la porta aperta adri 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 ora entro da switch e giochiamo tutto e treo andiamo all'acqua e uccidiamo tutti e cos'è abbiamo fatto la missione? si ma entri da matruso che se no mi spawnano tutti i corti che eh ci abbiamo fatto un miliardo di vittorie con noi eh condiii ciao ciao adri ciao 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 ciao